E dopo la TV Royale, quest'oggi c'è anche il Brawl Talk. Sì ragazzi, prima è uscita la TV Royale, dove hanno presentato tutti gli aggiornamenti di Clash Royale, adesso invece andiamo a reagire al Brawl Talk, con tutti gli aggiornamenti che arriveranno su Brawl Stars. Ci sarà un epico ritorno clamoroso su Brawl Stars? Vedremo. Fatemi vedere tanto supporto con un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, fatemi sapere sotto nei momenti poi alla fine del video cosa ne pensate, e io comunque vi ricordo che un paio di video ogni due settimane su Brawl Stars stanno uscendo, ma anche su Clash Royale, però molti di voi se li perdono, quindi mi raccomando ogni volta state lì controllate il canale, ogni tanto apritelo vedete cosa pubblico, perché moltissimi di voi mi stanno chiedendo Gigi ma i video di Brawl Stars? Invece ogni tanto escono ragazzi, cioè, però vabbè, ok, non sono offeso, tranquilli, non mi sono offeso. Vediamo invece qui Paula e Dani cosa hanno da raccontarci per questo nuovo Brawl Talk. Chiaramente è anche un aggiornamento per Halloween, anche se comunque manca circa una settimana, però credo che facciano appunto l'aggiornamento di Halloween e quant'altro. Vediamo. La festa per l'aggiornamento. La festa per l'aggiornamento. Prolloween. La modifica dell'equipaggiamento, ma cosa? Ryan, vabbè, era un po' che non lo mettevano Ryan in mezzo, eh? Era un po' che non lo vedevano. Vabbè, niente, ok. Figasse. Uh, Ghost Station. Figata il logo. Novità spaventose. Ci sarà una sfida Zombrock, per sbloccare Zombrock. Ma poi si potrà comprare dopo nello Shop for the Gem. Ok. Ok. Vabbè, torneranno queste skin di Halloween vecchie. Va bene. Ok. Nel nuovo Brawl Pass ci sarà questa skin di Penny molto carina. Buster è questo nuovo brawler cromatico. Altro brawler cromatico, ovviamente, ragazzi. Classico video di presentazione. Ah, con Feng. Ma che è? Non sto capendo. È tipo un attore. È tipo un attore, ragazzi. Cioè, non sto capendo. Proiezionista del cinema dello Star Park. Che è lui? Sarebbe lui? È una star dei film d'azione. Ok, vabbè. Del trio di Feng. Che è anche il suo migliore amico. Ok, sì, l'abbiamo visto insieme. Con l'attacco principale investe i nemici con dei fasci di luce. Ok. Oddio, è un tipo di attacco che abbiamo già visto spesso ultimamente, eh. Con dei nuovi brawler. Vabbè, vediamo però se c'è qualche particolarità. Più vicino si trova il suo bersaglio e più danni causa. Ok. È un tank che protegge i suoi alleati. Con la super crea un muro di luce che... Guardate, regà! Con la super crea un muro di luce che blocca gli attacchi. Guardate! Non gli arrivano gli attacchi. Qualsiasi cosa lo colpisca. Tranne, vabbè, gli attacchi all'alto. Ah, ok. Quindi anche i lanciatori, ovviamente, ragazzi, eh. Quindi anche i lanciatori. Lui crea questa sorta di scudo davanti, però dai lati. E chiaramente anche i lanciatori o brawler volanti possono hittarlo. Ok. Ah, rimanda indietro i colpi! E non conviene attaccarlo frontalmente. Eh, vabbè, è chiaro. Ok, c'è la sua skin, ovviamente, finale nel pass che spara segacci delle motoseghe. Ash pizzaiolo, che sicuramente vi farà contenti. Che carino, però. Che carino. La skin sarà nel negozio del club. Ah, nel negozio del club. Era un po' che non usciva nel negozio del club. G4 Janet's skin. Ok. Oddio, sembra Spike, Squeak, così, però, ragazzi. Sembra Spike. Ok, ci sarà una skin gratis verso la fine dell'anno. Ok. Non perdete l'annuncio di inizio dicembre per sapere come sbloccare, appunto, questa skin di Beryl. Quindi, ragazzi, possiamo presupporre che il prossimo Brawl Talk ci sarà inizio dicembre? Beh, penso di sì. Penso di sì. Quindi un mesetto e neanche mezzo. Un mesetto e dieci giorni, più o meno. Va bene. Oh, finalmente hanno modificato gli equipaggiamenti. Saranno rimosti dal gioco? Perciò ogni frammento e gettone che avete accumulato finora... ...vi sarà rimborsato con delle monete. Ma come con delle monete? Ah, ok, ho capito perché con le monete. Allora, aspettate, fatemi. Ok. E il primo equipaggiamento sarà sempre gratuito, ok. Ok, no, ho capito, raga. Praticamente adesso non li dovrete più trovare, ma li dovrete comprare con le monete e li potete comprare come quando volete per ogni brawler. Ok, allora così ha senso. Ci può stare, ci può stare. La loro attivazione è specifica per ogni brawler. Figata! Finalmente è come se fossero delle abilità stellari, che ognuno ha la sua. Anche con gli equipaggiamenti adesso ogni brawler ha delle peculiarità. Ok. Gli equipaggiamenti non avranno più livelli. Oh, sono tutti maxati. Oh, figata. Tre rarità. Super rari, epici e mitici. Ok. Sono disponibili per tutti. Quelli epici per qualche brawler e quelle mitici solo per uno per ora. Curiosa questa cosa, eh. Da vedere. Ecco quello di Eugenio. Figata. Arriveranno sempre nuovi equipaggiamenti, proprio perché adesso saranno peculiari per ogni brawler. Ok, questa cosa è molto interessante. Questa novità e rimborsi avverranno il giorno della pubblicazione. Ok. Perciò guardate i video dei creatori di contenuti di Brawl Stars, quindi mi raccomando, ragazzuoli, eh. Mi raccomando, vi ricordo, iscrivetevi al canale se è che questo è fatto, lasciate un bel mi piace per supportare anche Brawl Stars. Il codice creatore GGY è l'antitutto attaccato in un shop di Brawl, fondamentale anche in tutti gli altri giochi Supercell. Andremo avanti, andiamo avanti. Vabbè, ok, Ramo, l'ho già visto. Il tasto delle segnalazioni, veramente? Raga, mi raccomando, usatelo con cognizioni di causa, cioè se volete segnalare qualcuno perché ha fatto qualcosa di particolare, fatelo. Ma non ne abusate, non abusate. Per ora c'è solo la Lega delle Stelle, ma puntiamo ad aggiungere in altre modalità, ok. Vabbè, ci sta. Ci sta. Anche perché più che altro proprio in Lega delle Stelle dava più fastidio. Ok. Che poi, raga, il tasto della segnalazione veramente viene chiesto da un botto di tempo, eh. Veramente da un botto di tempo, raga. Vabbè, qua, ok, tutti i team. Ok. Che poi più o meno sono quasi gli stessi dello scorso anno, però va bene. No, qualcuno nuovo ci sta, qualcuno che non ho neanche mai sentito ci sta. Potrei interagire, vabbè, sì, come al solito, come anche con tutte le altre competizioni ufficiali, tipo le finali mensili. Ah, la skin gratis di Tara. Rage Quit Tara. Va bene. Vabbè, però poi dopo si potrà acquistare. Ok. Con le gemme potrete... Ah, figata, se vi manca un po' di oro, con alcune gemme potrete... Con alcune gemme potrete completare l'acquisto dell'oro, ma lo stesso brawler potrà essere usato da più giocatori nelle amichevoli. Cioè, questa è una roba che io chiedo da anni per fare dei contenuti particolari. Su questa cosa ci potremmo fare dei contenuti molto particolari, eh. Attenzione. Troverete più missioni generiche del solito. Oh, grazie al cielo! Non saremo più obbligati a dover giocare delle modalità fisse per fare le missioni. Grazie. 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 Ok. Oh, riceveremo più monete, quindi adesso sarà più facile ottenere monete. Ok. Potrete sfidare i robot nelle mische con i brawler che non avete. Carina sta cosa. Carina. Quindi potrete provare i brawler. Ah, ragazzi, giveaway dei content creator, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, eh, perché come al solito farò i giveaway delle skin che ci danno, appunto, quelli di Supercell. Ok. Allora, vi devo dire la verità. Nulla di trascendentale. Però sono già due o tre volte che nel Brawl Talk ripetono dell'annuncio di dicembre. Quindi, secondo me, a dicembre hanno qualcosa di bello grosso. E, a mio avviso, le cose che hanno annunciato adesso, per il prossimo mese e mezzo, ci può stare, eh. Alcune modifiche ci sono state. Ci può stare. Vabbè, qua i soliti errori, credo, e basta. Va bene. Ok. Va, Ryan, raga. Raga, io sto per è qui con Ryan. Mamma mia, mamma mia. È un sogno, ogni tanto quando lo rivediamo il Brawl Talk è un sogno. Detto questo, ragazzi, vi raccomando, un like, iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Vi ricordo anche il codice creatore GGYTUT, attaccato allo shop i Brawl Stars e tutti gli altri giochi Supercell. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!